Quasi 14.000 euro da cittadini, aziende, istituzioni e organi locali al risultato di una raccolta fondi a favore della popolazione coinvolta nell'alluvione promossa dal gruppo di protezione civile di Cavaria Compremezzo, in collaborazione con l'amministrazione comunale, le parrocchie, la Proloco, l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Varese, la società Medaos, l'Avis di Oggiona con Santo Stefano e l'Associazione Provinciale Pakistani Varesini, uniti per aiutare in particolare la scuola primaria Giovanni Pascoli nel comune di Sant'Agata, sul Santerno, in provincia di Ravenna. A breve un ulteriore sopralluogo presso l'Istituto Scolastico Ravennate.